Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiri Eleiso Signore Dio nostro, o Sovrano dei secoli, onnipotente e onnipossente, Tu che hai fatto tutto e che tutto trasformi con la Tua volontà, Tu che a Babilonia hai trasformato in rugiada la fiamma della fornace, sette volte più ardente e che hai protetto e salvato i Tuoi santi tre fanciulli, Tu che sei dottore e medico delle nostre anime, Tu che sei la salvezza di coloro che a Te si rivolgono, Ti chiediamo e Ti invochiamo, vanifica, scaccia e metti in fuga ogni potenza diabolica, Ogni presenza e macchinazione satanica e ogni influenza maligna e ogni maleficio o malocchio di persone malefiche e malvagie operate sul Tuo servo, fa che in cambio dell'invidia e del maleficio ne consegua abbondanza di beni, forza, successo e carità. Tu, Signore, che ami gli uomini, stendi le Tue mani possenti e le Tue braccia altissime e potenti e vieni a soccorrere e visita questa immagine Tua, mandando su di essa l'Angelo della Pace, forte e protettore dell'anima e del corpo, che terrà lontano e scaccerà qualunque forza malvagia, ogni beneficio e malia di persone corruttrice ed invidiose, cosicché sotto di Te il Tuo supplice protetto con gratitudine ti canti. Il Signore è il mio soccorritore e non avrò timore di ciò che potrà farmi l'uomo e ancora non avrò timore del male perché Tu sei con me. Tu sei il mio Dio, la mia forza, il mio Signore potente, Signore della Pace, Padre dei secoli futuri. Sì, Signore Dio nostro, avvi compassione della Tua immagine e salva il Tuo servo da ogni danno o minaccia provenienti dal maleficio e proteggilo ponendolo al di sopra di ogni male per l'intercessione della più che benedetta, gloriosa Signora la Madre di Dio e sempre Vergine Maria dei risplendenti arcangeli e di tutti i Tuoi santi. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo com'era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo com'era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo com'era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen